Ha restaurato e ridipinto una quarantina di panchine all'inviolata, al Parco dei Nonni, in varie parti della città e al Parco della Rocca, completamente gratis e per puro senso civico, anzi per passione, puntualizza lui. Per questo l'amministrazione comunale lo ha voluto ringraziare, accogliendolo in municipio per una breve cerimonia ufficiale. Ad Alessandro Tamburini, quelle due panchine all'inviolata, scolorite dal tempo, proprio non li andavano giù. Che bello sarebbe poterle sistemare, pensava, tutte le mattine passandoci davanti per andare in centro, dai viari di Tili dove abita. Alessandro Tamburini, che in gioventù per qualche tempo ha fatto il falegname, alla fine è passato all'azione e si è fatto portare le panchine a casa dagli operai del comune e poi via di levigatura e pittura. Una volta finite era sempre il cantiere comunale che le riportava al posto. Insomma, le ha sistemate tutte. Come in tutte le città, anche a Riva del Garda ci sono persone che le panchine le danneggiano, ha detto l'assessore alla qualità urbana Massimo Accorsi, e chi danneggia cestini delle immondizie, lampioni, biciclette e imbratte i muri e crea danni. Ma anche tanti cittadini che davanti al più piccolo problema subito si lamenta, magari sollevando polemiche esagerate. Le persone che invece decidono di far qualcosa sono poche, magari solo di raccogliere una carta per terra o magari di segnalare in comune quello che non va. Quello di Alessandro Tamburini è un atto al di fuori dell'ordinario, molto bello e ammirevole, che merita ammirazione e riconoscenza e che mi piacerebbe contaminasse positivamente la città, ha concluso l'assessore. Ad Alessandro Tamburini l'assessore Accorsi ha consegnato in sala giunta al primo piano del municipio un piccolo omaggio e un biglietto di riconoscenza da parte del sindaco. Ora Alessandro Tamburini ha in programma una breve vacanza ad Innsbruck, ma ha già individuato alcune panchine delle quali si occuperà al suo ritorno.